E siamo lo sport, l'apertura è dedicata al ciclismo, è stato presentato oggi il Giro d'Italia, edizione numero 104, Giro d'Italia che partirà l'8 maggio da Torino per concludersi il 30 con la cronometro che arriva a Milano. 21 tappe per un totale di 3450 km, anche l'Abruzzo, come ampiamente già annunciato, sarà protagonista con due partenze, Notaresco e L'Aquila. E' una tappa tutta regionale con la Castel di Sangro-Campo Felice, venerdì 14 maggio, settima tappa Notaresco-Termoli di 178 km, frazione per velocisti, domenica 16 maggio, nona tappa Castel di Sangro-Campo Felice di 160 km, con arrivo in salita e un chilometro e mezzo di sterrato. Lunedì 17 maggio, decima tappa, l'Aquila-Foligno di 140 km, frazione ondulata, iscritte 23 squadre composte da 8 corridori per un totale di 184 al via, tra i team invitati anche Lavini-Zabù, marchio della Vini-Fantini dell'imprenditore abruzzese Valentino Sciotti.